buongiorno ragazzi oggi volevo parlarvi di alcuni plugin del tutto italiani perché questi sono plugin che nascono proprio tutti e completamente in italia prodotto puramente italiano e la ditta si chiama fabbricante diciamo di questi plugin si chiama audio thing o audio thing non so come si dica si pronunci bene in inglese comunque io li chiamo audio thing sono prodotti veramente molto buoni il programmatore italiano letto qualche sua recensione e ma soprattutto qualche sua intervista perché è stato intervistato in rete e mi sembra veramente una bravissima persona soprattutto molto brava a produrre plugin molto seria ma soprattutto molto preparato per produrre plugin e via non perdiamoci in cianci e vi parlerei subito del bling fold ecolizzatore così ve lo faccio vedere con plugin doctor bling fold ecolizzatore è un plugin veramente molto ma molto strano nel senso che adesso ve lo faccio vedere disattivo vedete linea piatta sullo zero siamo in linear analysis lo attivo intanto vedete che va giù di meno 2,4 decibel quindi per riportarlo lo zero con tutto in default per riportarlo lo zero io aumento di 2,4 decibel e lo riporto zero questa è già una prima caratteristica che notiamo subito e di cui ovviamente dobbiamo tener conto come lo attiviamo ecco io disattivato momentaneamente analog perché vedete se lo attivo vedete cosa fa io riporto a zero vedete mi fa oscillare tra vedete tra 0 e meno 2,5 e tra meno 2,5 e meno 5 vedete che oscilla in questa zona con un roll off sulle alte frequenze che va giù anche abbastanza preciso abbastanza netto però vedete che avendo questa oscillazione emulando questa analogicità infatti vedete che crea forse fate in tempo vederlo due linette vedete una rosa e un'azzurra perché crea proprio la differenza tra i canali destro e sinistro o le tolleranze tra i componenti di due canali adiacenti o di una scatola analogica che in questo caso potrebbe essere appunto l'ecolizzatore che tentano di emulare però lo andremo a sentire poi farò un video dove ve lo faccio anche sentire al momento lo disattiverei perché crea questo su e giù diciamo che è fastidioso da vedere quindi lo disattiviamo vedete si stabilizza meno 24 torno a dargli più 24 e lo riportiamo a zero ok questa è la prima caratteristica poi andiamo a vedere prima in lineare analisi poi guardiamo armonicamente cosa succede partiamo dal low frequency quindi dal filtro delle basse capiamo innanzitutto cos'è se do gain è un low shelving abbastanza netto anche direi perché vedete che non è tanto morbido è abbastanza ripido che non vuol dire non musicale o poco musicale semplicemente abbastanza ripido vedete che per pochi decibel che sembra che stia dando così lo riporto in default vedete sono sieno appena alla prima tacchettina vedete che sono già più 10 decibel quindi ne stiamo dando guardate qua se aumento fino al massimo quindi ci vuole attenzione a usare il volume di queste manopole ok di questi potenziometri comunque è uno shelving ed è abbastanza ripido se lo aumento proviamo in attenuazione attenua è uno shelving sempre con la stessa ripidità di quando andiamo a dare burst poi vediamo caratteristica importantissima alla prima tacca diciamo in negativo cioè in attenuazione si comporta come imbost con una curva abbastanza ripida ma poi solo che passiamo la prima tacca e continuiamo scendere guardate cosa succede torna ad aumentare guardate lo scherzo crea questo ginocchio ginocchio questa protuberanza prima del punto di taglio del filtro che stiamo tagliando stiamo attenuando ma poi se continuo a scendere quindi ad attenuare guardate cosa succede vedete che sto abbassando si rialza in realtà con questa gobba con questa protuberanza con quel ginocchio e guardate cosa succede io sto diminuendo è ragazzi sto andando in giù così sono al massimo in realtà rispetto lo zero o sta aumentando vedete disattivo linea piatta attivo ma col game sono al minimo al suo minimo del potenziometro ed ha aumentato di 394 decibel qui con una protuberanza addirittura di più 6 e 6 intorno ai 110 scusate 150 hertz guardate che se loro ridiminuisco l'attenuazione c'è riporto sul valore ridando game guardate guardate qua addirittura cosa succede qui succede che qui torna giù diventa come un picco 0 aumento intorno ai 120 hertz e ricala guardate che ha un funzionamento veramente alquanto strano e qua guardate torna 0 è micidiale e questo sia su quella frequenza ma vedete anche se lo sposto uguale stesso discorso lo sposto fa circa il comportamento è lo stesso e questo è il shelving delle basse frequenze poi abbiamo un low medium filter un high medium filter e un high filter low filter e high filter penso siano due shelving proviamo infatti live filter sì e anche questo è molto strano vedete aumento guardate cosa succede in realtà più che aumentare le alte va ad abbassare tutte quelle al di sotto della frequenza che ho selezionata di intervento e guardate quindi in pratica sta alzando perché abbassa tutto il resto c'è invece di alzarsi lui abbassa tutto il resto è come principio è circa la stessa cosa però in realtà è un po' differente guardate 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 aumento ulteriormente guardate cosa succede anche qui è come come prima abbiamo un ginocchio una protuberanza un brufolo intorno ai 10.000 hertz poi vedete che quasi probabilmente si ristabilizza e ridiventa pari però è detta bassa quindi alza le alte frequenze creando questa protuberanza strana e sono solo lì perché guardate se aumenta ecco guardate qua aumento aumento guardate qua a metà ritornano su si abbassa prima della frequenza di taglio vedete c'è un ginocchio ma in ribasso in attenuazione poco prima della mia frequenza di intervento e poi gran botta gran ginocchio gran brufolo intorno queste frequenze è fantastico questo ecolizzatore e man mano aumento guardate cosa succede è stranissimo come atteggiamento se tolgo soft clip è diverso col soft clip inserito fa così in effetti dopo lo proviamo rifare tutto senza soft clip per vedere le differenze poi abbiamo il medio le frequenze high medium filter e low medium filter proviamo le medio alte dove si può selezionare lo stringimento della 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 campana del 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 q no della nostra curva mentre low shelving e high shelving non hanno questa possibilità e non sono commutabili in picchi in bell ma rimangono shelving proviamo le al medio alte frequenze lasciamo la frequenza fissa di default andiamo aumentare anche qui guardiamo piccoli valori andiamo pian pianino per vedere il comportamento qui aumenta qui con la q possiamo stringere u ha dei valori veramente molto piccoli di campanatura di apertura di campana guardate come stretta quindi si possono fare eventualmente anche dei tagli molto chirurgici vedete e poi gioco con la frequenza mi vado a cercare la mia frequenza fastidiosa me la posso togliere ma riportiamo a 0 dicevamo aumento 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 man mano va abbassare anche i due lati della campana poi cosa succede abbasso ancora basso ancora guardate la forma della campana come cambia come è asimmetrica e guardate anche qui l'andamento qui c'è un leggero ring rigonfiamento qui qui invece più lineare è veramente molto strano questo equalizzatore guardate addirittura qui si crea un'altra protuberanza a questo valore che aumenta andando ad aumentare guardate guardate che picco è veramente strano questo equalizzatore e se invece diminuiamo 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 vediamo che atteggiamento ha nel attenuare non crea le protuberanze del potenzia del di prima quando potenziavamo però anche qui vedete che è una campana ma con comportamenti asimmetrici lato sinistro e lato destro vedete sono nettamente diversi poi ripeto posso stringere posso allargarla non vi ho fatto vedere quando è larga tutta se io aumento qua un valore che posso vedere allargo tutta la campana guardate come diventa un band pass diventa praticamente un band pass mi taglia qua mi taglia qua mi fa passare da 50 a 20 mila ma con questo taglio qua che sembra il band pass dell'api 550 che aveva quel filtro passa banda passante e dove crea appunto un taglio sulle 50 un taglio sulle 15 mila ed è circa una banda passante del tipo proprio siamo circa circa lì non è tanto differente sembra il band pass del equalizzatore api poi abbiamo le medio basse frequenze anche qui secondo me stesso comportamento così si stringe possiamo avere delle campane molto strette per fare tagli chirurgici così allarghiamo qui ecco non si forma la banda passante delle medio alte rimane una banda molto larga ma sempre picco scusate sempre belle sempre campana molto larga larghissima direi ma sempre campana che a differenza invece di questo che proprio diventava banda passante fino qui poi se continuo ad aumentare vedete che cambia l'atteggiamento guardate eccezionale cos'è questa cosa eccezionale guardate che roba si è trasformato non più in una campana non più in una bell ma in qualcos'altro guardate guardate è una roba eccezionale guardate che cosa in grado di fare e questo è il lecolizzatore con soft clip inserito ripeto analogo lo spento perché aveva questo scherzo che mi faceva venire a me il mal agli occhi quindi immagino voi che guardavate il video quindi l'ho disattivato ma il soft clip l'ho lasciato attivo se lo disattivo proviamo a rimettere a zero ecco era il soft clip quindi che abbassava di quei 2,4 del qua torna normale vediamo se anche l'atteggiamento dei filtri è normale sì direi di sì direi che l'atteggiamento dei filtri in questo caso è normale è il soft clipping che gli da quel discorso lì ok vedete è un ecolizzatore digitale probabilmente normalissimo con soft clip e analog spenti con analog acceso è un ecolizzatore normalissimo ma analogico perché vedete che crea questo imbarazzo visivo però in realtà cambia anche la curva vedete con solo l'analog proviamo sui filtri medi circa circa un sì ok e quando attivo anche soft clipping chiaramente mi fa lo scherzo di prima mi cambia quindi veramente veramente fantastico il blind il blind fold ecolizzatore e altra caratteristica che non vi ho detto attenzione non ci sono numeri come voi vedete né quando muovo i potenziometri vedete che non mi fa vedere non vi viene fuori il pop up con le informazioni di che frequenza stiamo guardando lo stesso per il valore non sappiamo quanto stiamo aumentando o diminuendo ma questo secondo me è e nemmeno lo stringimento di qua a destra o l'allargamento come abbiamo visto dal DDMF del Q allargamento o restringimento della Q della bell della campana non vi fa vedere niente voi direte ma è un po' scomodo è un po' scomoda questa cosa confermo verissimo è scomoda la cosa ma secondo me assolutamente fondamentale e importante e sottolineo la parola importante è che ci costringe l'utilizzo di questo plugin secondo ovviamente la mentalità del suo produttore ci costringe a usare le orecchie perché purtroppo ultimamente negli ultimi anni ci siamo un po' troppo concentrati sui numeri sui valori aumento a 100 hertz di più 4 decibel con una Q 100 hertz più 4 con una Q di 0,7 di ampiezza qui non c'è scritto niente invece quindi quanto aumenterò a che larghezza di Q e a quale frequenza è dato dalle mie orecchie quindi ci costringe non più a guardare con gli occhi ma ad ecolizzare con le orecchie come secondo me in effetti dovrebbe essere ragazzi attenzione è scalabile l'interfaccia vedete che rimane molto bella da vedere molto precisa quindi è già in alta risoluzione probabilmente in 4k qui abbiamo che possiamo scegliere già quando attiviamo il plugin come lo vogliamo se small standard o big qui è su big ma poi ripeto la possiamo allargare poi abbiamo il preset copy past va bene about ci dice la versione e qui ci porta al sito del produttore vedete che qui si schiaccia sulla campana mi dice new version available c'è una nuova versione la 1.1 che io non ho ancora scaricato perché questo è un demo possiamo disattivare ogni singola se non vogliamo usare la cpu a gratis del nostro computer possiamo disattivare appunto ogni singola banda e non vi ho fatto vedere il harmonic analysis eccolo qua tutto spento la mia frequenza è sempre tarata 199,2 arrotondiamo 200 hertz e vedete che c'è forse questo pelo di rumore ma la parte più alta è sotto i meno 150 decibel quindi non udibile assolutamente non dà fastidio al mio suono se attivo analog vedete l'effetto che ballava prima su linear analysis ce l'abbiamo anche qua perché appunto è l'effetto dell'analogico vedete la differenza fra i canali decenti o la tolleranza dei componenti chiamiamolo come vogliamo se attivo soft clip vedete che saltano fuori le armoniche e non ne ha neanche poche devo dire di armoniche salta fuori sulla mia fondamentale che ripeto e 200 la prima armonica intorno ai 600 che non è un multiplo di 200 multiplo di 200 sarebbe 400 200 raddoppiato 400 multiplo di 400 800 multiplo di 800 88 16 16 qui invece abbiamo 600 è una terza armonica in una armonica dispari qui abbiamo 1000 non è un multiplo di queste 600 quindi un'altra armonica dispari qui abbiamo 1400 rispetto la mia 200 24 48 8 16 è un'armonica dispari anche questa e poi abbiamo finalmente la mille otto che invece un multiplo di 800 che un multiplo di 400 che un multiplo di 200 quindi la 123 la quarta armonica che si presenta un'armonica pari la terza armonica che si presenta dispari la seconda dispari la prima dispari quindi si genererà armoniche pari e adesso non ve le faccio vedere tutte ma sicuramente avrà armoniche pari e armoniche dispari è un bel ecolizzatore comunque colorato quindi colorerà il nostro suono ea questo comportamento un po strano con il soft clip inserito che è quello che puoi da anche le armoniche quindi da il carattere diciamo per oggi è tutto con il blind fold ecolizzatore vi farò un video dove vi farò vedere tutti i plugin della ditta audio thing ok ciao e grazie a tutti